Il dovere della memoria ma anche un monito affinché simili tragedie non accadano più. A Pietri sul mare è andata in archivio la seconda edizione del premio Michele Siani in ricordo del medico dei bambini. Il riconoscimento è stato consegnato al papà di Giovanni Battiloro, giovane videomaker campano, nonché una delle vittime della tragedia del Ponte Morandi di Genova. Una solidarietà da parte del popolo vietrese, di tutti gli intervenuti al Memorial Michele Siani che ci ha inorgoglito come famiglia e che dimostra chiaramente che la voglia di verità in questo paese è diffusa più di quello che noi possiamo immaginare. Non ci possono essere ancora buchi neri in un'Italia che ha lo sfascio sotto il punto di vista delle infrastrutture. Teatro, musica e intrattenimento nella splendida location della costiera amalfitana per un'iniziativa che ha riscontrato un ottimo successo di pubblico. Giovanni Battiloro era un ragazzo intelligente, un giovane brillante, un giornalista e reporter di grande qualità. E proprio come il dottore Michele Siani amava il sociale, amava il mare e amava anche suonare la batteria. Quindi ci sono molti punti in comune tra il dottore Michele Siani e Giovanni Battiloro. Per questo motivo io credo che mai Premo sia stato più importante e azzeccato, come direbbe qualcuno, in questa edizione.